Salve amici del Centro Meteo Italiano, clima freddo e tempo instabile per i weekend di Pasqua, vediamo allora l'evoluzione con gli ultimi aggiornamenti. Aria artica che nei prossimi giorni porterà temperature sotto media in Italia anche di 6-8 gradi. Possibilità di fenomeni sparsi soprattutto al centro-sud con neve lungo l'Appennino fin verso i 5-700 metri. Situazione sinottica che all'inizio del weekend potrebbe vedere l'alta pressione sbilanciata verso la Scandinavia ed una circolazione fredda ed instabile tra Mediterraneo e Balcani. Piogge temporali sparsi possibili sabato e in misura minore anche nel giorno di Pasqua, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Anticiclone verso l'Europa occidentale per la prossima settimana, ma Italia che potrebbe restare ancora ai margini e sotto il tiro delle correnti fredde. Seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.